ci avviciniamo alle grille di partenza il dottor domenichini in forma sbagliante è tornato e siamo partiti eh è ben scherata l'ho bucato il tubolare ma non capisco come c'è caldo c'è caldo questa era l'uscita tipo a coppa cobram quadrone grande ciao paolo ciao san carlo attenzione attenzione si prospetta una giornata all'insegna della polvere la mano sul down tube tutta la salietta che scappa le maiala è fatta sulla via del cinghiale ragazzi avete sentito bene sì alla bersagliera facendo ragazzi datemi il meglio delle vostre cappe facciamo bello sport trattoria il culone è che dopo la curva spiana ragazzi senza freni senza freni bello però mi piace all'eroica si bucò un chilometro prima dell'arrivo facciamo i ciclisti d'epoca con il tubolare che inquadratura ragazzi bellissima 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 bevete bevete sono nulli grande sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei che coglioni ne come re piacciono i min Grazie a tutti.